L'intervento della Croce Bianca del Canavese del risoccorso del 118 nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, poco prima delle 15, in frazione Salto Quornier, un parapendista 37enne di Nazionale Età Polacca, è atterrato male sulla pista di parapendio, in frazione Salto. Subito avvertati i soccorsi, è intervenuta sul posto l'ambulanza della Croce Bianca, che dopo aver stabilizzato l'uomo l'ha trasportato agli impianti sportivi, dove da attenderla a cerelli di soccorso del 118. Caricato sull'elicottero, l'uomo è stato trasportato all'ospedale CTO. Pare abbia riportato la compressione di una vertebra, non è in pericolo di vita. Passporto sull'elicottero, l'uomo è intrat excludente, Grazie per la visione! Grazie per la visione!